Quando mi dicono che lavoro fai? Io non lavoro, io mi diverto. Cosa che fino a quattro anni fa pranzavo in uno stanzino con il microonde, la libertà. Non voglio sopravvivere, Ludo. Quando fai il dipendente, sopravvivi, non è vita. Io ti dico solo a luglio sono al 48% di occupazione, sono a 30.000 euro di commissioni. Avresti ottenuto lo stesso senza BNB Academy. Parliamo di meno di un anno di lavoro, io non mi immagino cosa succederà fra un anno o due. Volevo avere libertà solo finanziare ma anche di tempo, che è la cosa più importante. Ho fatto il corso di BNB Academy e poi sono entrato in Rental Pro e poi da lì è esploso tutto. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Oggi nuova testimonianza, sono contentissimo perché abbiamo Patrick, che non solo è studente di BNB Academy ma è anche affiliato Rental Pro. Ciao a tutti. Oggi non ci concentreremo tanto sul tuo rapporto con Rental Pro perché quello è un tema che verrà analizzato in un'altra testimonianza con Flavio, nostro amministratore delegato. Parleremo più del rapporto con BNB Academy che è comunque il percorso di formazione che ti ha permesso di acquisire nozioni per gestire i mobili, convincere i proprietari e tanto altro ancora. Quindi grazie innanzitutto per essere qua con noi. Un piacere, figurati. Allora Patrick, di cosa ti occupi slash occupavi e quanti anni hai? Allora io ho 32 anni, ho due bambini, uno di 5 e uno di 2. Lo dico perché io 5 anni fa ero dipendente in una cantina, facevo il direttore commerciale di questa cantina, prendevo 1300 euro al mese e lavoravo dal martedì alla domenica pomeriggio. Quindi io avevo domenica pomeriggio alle 3 tornavo a casa, stavo con il mio bambino, ai tempi ancora uno, la domenica pomeriggio e lunedì tutto il giorno, basta. Quello era il mio tempo limite che avevo con il mio bambino. Da lì ho capito che non andava bene, dovevo trovare un'alternativa. Inizialmente ho aperto una piccola pizzeria d'asporto perché ho detto se riesco, mi stacco dal lavoro, faccio questa cosa perché ancora non conoscevo gli affitti brevi. Poi man mano, man mano, man mano ho capito che non era cosa per me. Allora ho conosciuto il tuo corso e l'ho comprato ad agosto del 2022. Me lo sono sparato in una settimana, così almeno me lo sono fatto tutto proprio alla settimana di Ferragosto, la gente che era inferiore, io ero chiuso nella mia stanzina a guardare il tuo corso e da lì, come si dice, progressivamente è cambiato tutto perché poi io a fine di quell'anno, a fine del 2022, ho mollato il lavoro in cantina e mi sono dedicato a pizzeria e affitti brevi e niente, poi col tempo, adesso siamo a aprile, praticamente a maggio 2024, io ho chiuso la mia pizzeria a fine marzo di quest'anno, quindi un mesetto fa praticamente, perché ormai non aveva più alcun senso tenerla aperta, visto tutto quello che ho acquisito, tutto il lavoro che ho fatto con gli affitti brevi e quindi ho cambiato sport, cioè totalmente quello che facevo prima. Mi sono liberato da ogni vincolo di libertà che non avevo, adesso posso fare quello che voglio, quando voglio, come voglio, chiaro, c'è da farsi comunque il mazzo perché gestire al momento 21 immobili online, che poi diventeranno 38 entro la fine di maggio, non è facile perché comunque sono io, sì ho collaborazioni, tutto quello che vuoi, però la parte online che è quella più, diciamo, un po' più drastica, cioè un po' più, come si può dire, in termini di mansioni, è quella più, no, in termini di mansioni, in senso è quella che richiede più impegno rispetto alla gestione offline, diciamo, l'offline intervieni, se automatizzi check in check out, intervieni solo in caso di problematiche dell'appartamento, stai dietro alle pulizie, boh, sostanzialmente il grosso è quello, nella parte online c'è parecchie cose, altre cose da fare, però mi piace, mi trovo bene, mi diverte, poi dico, non lo so, oggi lavoro due ore, mi fermo e sto tutto il giorno comunque a rilassarmi, a stare con i miei bimbi e tutto, posso farlo, cosa che prima ero intenziale, infatti oggi è martedì mattino praticamente, e sei qui a fare la testimonianza, sei in pizzeria o in cantina? Sì, adesso ero in pizzeria o in cantina, sì sì, sarei stato in cantina e stasera sarei dovuto andare in pizzeria alle 7, invece sono qua con questa qua, che mi sono mi rompe le scatole, va via dai, sta buona, border colli bellissimo, vabbè, comunque sì, ho cambiato, ho cambiato totalmente le cose, ci sono riuscito perché era questo il mio obiettivo principale, cioè avere più tempo per i bambini, chiaro che ancora mi sto dando tanto da fare perché voglio arrivare anche comunque ad avere una stabilità economica dal dire ok, posso anche delegare un po' di cose, rilassarmi ancora di più, anche se un po' è difficile perché è un po' una malattia sta diventando sta cosa, perché guarda che c'è davvero, come si può dire, è assurdo il fatto che quando avevi un obbligo di ore di lavoro dicevi ok, io devo lavorare queste ore, finite queste ore, dicevi basta, oggi ho finito, invece non avendocelo, se sei uno molto, che si impegna molto nel lavoro, cavolo io sto lavorando sempre, tutti i giorni, tutte le ore, fino alle 2-3 del mattino e poi mi alzo le 8 di mattina, 8-8 e mezza a portare il bambino a scuola, però lavoro, ma perché mi piace, non ho nessuno che mi sta dietro con un coltello a dirmi muoviti, lavora, datti da fare, mi piace e quindi lo faccio volentieri, però mi sto abbastanza. Poi quando vuoi invece ritagliarti dei momenti, sia di martedì, giovedì, luglio, perché le... Mese scorso, ti faccio l'esempio, mese scorso siamo partiti, mia moglie aveva, adesso sta ancora facendo la parrucchiera a mia moglie perché lì piace come lavoro, quindi non l'ha ancora mollato perché mi fa, a me piace, ma cosa mollo a fare, vabbè sostanza, aveva una settimana di ferie, siamo partiti da martedì a sabato, siamo andati al lago di Garda, in un campeggio, una roba easy, non nulla di spettacolare, però siamo andati là con i nostri bambini, giri in bici e tutto, io comunque lavoravo, ma sporadicamente, nel senso, mi lavoravo la sera, tornato a casa, mettevo a letto i bambini, lavoravo un po' e poi di giorno stavo con loro, poi ogni tanto sai c'è quel messaggino, l'impresa, il proprietario, l'ospite o chi che sia, ma sono cose banali, cioè nel senso, non è che mi dicevo, guarda mo, quattro ore, lasciami stare, non posso, devo lavorare, no, potevo fare quello che volevo, io rispondevo al telefono mentre ero in bicicletta, agli ospiti. Esatto, lavorare significa magari mandare un messaggino su Airbnb, o sul computer, azzappare la terra, giusto per, io l'ho visto con mia mamma nell'istorante, avevo avuto una pizzeria a star lì di fronte al forno ad agosto con 40 gradi, cioè mi ricordo la sofferenza. Io e il mio fratello, io e il mio fratello, 46 gradi, l'anno scorso c'avevo il termometro, 46 gradi dentro la pizzeria, cioè parliamone, noi davanti al forno a sfondarci, no, quello è lavorare, per me, io ripeto, quando mi dicono che lavoro fai, io non lavoro, io mi diverto, io lavoro sempre ma non lavoro mai, li dico a tutti, perché alla fine è vero, cioè se comunque chiaramente con un determinato modo, metodo e tutto, organizzazione, puoi arrivare a questo, cioè automatizzi veramente bene e puoi goderti comunque le giornate e tutto, poi vabbè, il cellulare ce l'ho sempre sotto mano, non si sa mai, mi scrivono, rispondo, ma posso stare dove voglio, quando voglio, come voglio e così via, cioè, libertà. Che poi anche tuo fratello ha detto era in pizzeria con te, ma adesso anche lui è entrato in rental pro e quindi anche lui si è dedicato al 100% agli affitti brevi, dopo di te, tra l'altro, visto che funzionava. Sì, nel senso, lui ha fatto il tuo corso, l'ha fatto tre mesi dopo, però che ci si è messo proprio sotto, sotto, sotto è stato un bel po' dopo, ha incominciato un bel po' dopo, poi è entrato anche lui in rental pro e sì, adesso anche lui fa questo praticamente ed è l'unico dei suoi amici. Poi da me, da queste parti, io abito in un paesino, non è il business, il fare qualcosa da sé, la partita IVA, è schifatissima qua, infatti è una guerra continua con la gente qua, con la gente, nel senso, familiari, conoscenti, che la gente dice, ah, la partita IVA, ma sei matto? E tu gli dici, sì, ce l'ho, guadagno più di te, lavoro di meno, quindi sono matto sì, sti cazzi, sostanzialmente quello. E dove vivi e dove operi? Che sono due cose diverse, la gente pensa, vivo in un luogo, opero lì, non per forza. Allora, io vivo vicino ad Alessandria, in Piemonte, più precisamente Casale Monferrato, ok, opero ovunque, allora Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Sardegna e Abruzzo, lì ho delle strutture, in queste regioni qua che ti ho elencato ho delle strutture, quindi ovunque, sostanzialmente, non mi sono mai, all'inizio mi ponevo il limite, ecco questo è stato un errore, io i primi otto mesi Ludovico ho fatto una fatica bestiale ad acquisire, perché volevo qualcosa qua vicino e mi dicevo, no, voglio qualcosa qua nell'Alessandrino perché voglio acquisire qua, eccetera, imponendomi questo limite mi sono ritrovato ad avere difficoltà, quando poi sono entrato in InterPro che ho deciso di espandermi, anche mentalmente, boom, esploso tutto, perché ho cominciato a acquisire in qualsiasi tipo di posto, io ho appartamenti che non ho mai visto, mai, non ci sono mai neanche andati fisicamente, è così, fare prendi, poi comunque il bello è trovi qualcuno con cui collaborare, che sia B&B Academy, che sia RentalPro e gli dici, guarda ho questa opportunità, sei lì vicino, ti va di collaborare, fatta, prendi, fai un accordo, io di solito accordo sempre a metà, perché lui fa la sua parte, io faccio la mia e dividiamo a metà, anche se so che l'online diciamo richiede più tempo rispetto al loco, però mi organizzo in modo tale che posso acquisire senza muovermi di casa sostanzialmente, poi non è... Quindi per chi se lo stesse chiedendo quando dici gestisco i mobili in diverse regioni è perché tu ti occupi della parte online e poi hai trovato un partner in loco che fa la parte del punto... In alcuni sono anche andato, naturalmente, anzi ti dico, io mi organizzo sempre a settimana per fare qualche giro, mi organizzo che ne so, devo andare a Torino? Bene, ho quattro appartamenti, parto, vado, mi faccio il giro di appartamenti, anche se non serve a niente magari, ma farci un salto così ogni tanto, anche se devo gestirci solo la parte online, chi se ne frega, un salto lo faccio, capito? Cioè se devo andare in una determinata zona, io mi organizzo per fare la giornata. Settimana scorsa sono andato in Liguria a fare lo shooty fotografico di un appartamento, me li sono visti tutti e otto, quelli che ho in gestione, e sono andato e farci un giro. In alcuni, vabbè, avevo ospiti, non ci sono entrato, ma ho detto sai che ti dico, anzi in uno, il più bello, ci ho fatto anche un video su Instagram, era la Cervo, con la vista sul mare, ho detto sai che ti dico, mi prendo il mio paninetto, la mia Coca-Cola, mi sono seduto lì a mezzogiorno e mezzo a mangiare a pranzo, cosa che fino a quattro anni fa pranzavo in uno stanzino con il microonde, la pasta scaldata, ed ero rinchiuso in una cantina che vendeva vino tutto il giorno, totalmente diverso, cioè proprio tutta un'altra vita, assolutamente. Il portfoglio di oggetto sono 20 e? 21, 21 sono online e entro alla fine di maggio, se tutto va bene, se no alla fine di giugno sono 38, sono arrivato. Ottimo, e come sono suddivise tra property management ad investimento zero e sublocazione? Allora, io ho fatto un errore che sconsiglio a tutti, di partire col subaffitto, perché sai, lì, ora, il corso ti prepara, quello sì, però dal lato pratico c'è tanto, tanto da sapere, tanto da scoprire in realtà, perché poi lo scopri man mano. Io ho fatto l'errore di partire subito col subaffitto, ho preso due appartamenti molto stagionali, uno ad Alassio e uno ad Alba, provincia di Cuneo, e sono partito con quei due lì, in subaffitto. Poi da lì in poi è tutto stato PM, quindi io ne ho due in subaffitto, di cui aspetta tre in realtà, un terzo a Torino, in collaborazione con un affiliato Rental Pro, che dividiamo spese in cassi, e tutto il resto è PM, tutto. Il property manager è tanta roba, ti dirò. All'inizio pensavo era meglio il subaffitto, ma non lo so, da parte mia il property management, il fatto che non hai rischi, non hai spese, se ce li hai, ma diciamo di certo relative rispetto a un subaffitto, e guadagni è tanta roba. Eh, sono filosofie diverse, ho fatto testimonianze con gente che diceva invece no, io sono sublocazione, io ho zero PM. Ero partito così anch'io. È come gli appassionati di moto e gli appassionati delle auto. Certo, no no, su quello, infatti quello che dico è il pensiero mio, assolutamente, perché tutto quello che penso è mio. Anche se ti dirò, il subaffitto ad Alassio mi porterà delle belle soddisfazioni quest'estate. Parliamo di 5-6 mila euro di guadagno netto al mese, giugno, luglio, agosto, e ne spendo mila e due. Secondo me si tratta di quando uno lo prende, perché anch'io ho fatto degli investimenti che all'inizio sembravano sbagliati, tipo sul lago di Como, il contratto l'avevo firmato ad inizio estate, ma poi la proprietà non mi stava dando dei documenti, l'ho potuta avviare solo ad ottobre, quindi doveva partire inizio luglio e partita a ottobre, e chiaramente mi sono perso la stagione migliore, quindi poi sono andato addirittura in perdita, è successo una volta in vita mia, ma è successo. Sono riuscito ad andare in perdita con questo appartamento su Como. La vedevo grigia perché ogni mese era lì che buttavo duemila euro di canone a seguito di pochissime pronotazioni nei mesi invernali, quando poi invece l'estate successiva sono riuscito ad affittarlo, ho recuperato tutto quello che avevo speso nell'anno prima e mi sono pure avanzati i soldi, quindi è stata solo una questione di tempismo, secondo me la sublocazione stagionale va presa intorno ad aprile e maggio, perché poi da lì inizia ad arrivare il boom di pronotazioni, allora lì parti che ho speso e guadagno subito, se la prendi in pieno inverno o autunno è una fregatura. Sì, ti dico, poi ripeto, con l'inesperienza che avevo l'anno scorso, l'errore è stato quello, nel senso che se dall'inizio, nel senso che poi alla fine è stato errore mio perché nel corso tu lo dici anche che ci sono appartamenti stagionali eccetera eccetera, quindi quello lo spieghi anche, però l'errore è stato mio ho detto ok lo prendo, qualcosina dai faccio quest'inverno almeno copro le spese, non è stato un po' così, però ti dirò, sti cazzi se faccio i conti alla fine di tutto comunque ci ho guadagnato di più di quello che ho speso, quindi alla fine non è stato poi sbagliato, il discorso del dire ho fatto un errore è stato nel partire con un investimento in subaffitto quando non avevo quell'esperienza tale da dire ok so già che adesso andrò in perdita in questi primi mesi poi riprenderò nei mesi estivi, quello è stato, mi ha messo un po' difficoltà i primi mesi, però con i numeri con le prenotazioni che ho ad oggi, che ho tutto luglio e tutto agosto pieno, no, agosto ne ho 20 notti e sono a quasi 6.000 euro di guadagno, tolte già tutte le spese, pulizie, tasse dei portali e tasse di soggiorno sono quasi 6.000 euro con 20 notti, ne mancano ancora 10, di cui una dal 10 al 15 di agosto quindi è proprio il periodo più caldo, questo riguarda zone stagionali, hai detto che anche una sublocazione a Torino lì non esiste bene o male stagionalità immagino, lavori tutto l'anno allora sì, l'unica cosa è che ci sono mesi dove copri la spesa quello sicuro e mesi dove guadagni molto di più quindi rispetto ad Alassio, sì a Torino effettivamente è molto meno stagionale ma al contempo diciamo che i veri guadagni non li fai tutto l'anno, li fai in tot mesi poi ci sono mesi dove copri le spese almeno, in Alassio no, in Alassio ti fai l'inverno o fai un affitto a medio termine, che è tutta un'altra cosa, oppure di copritura di spese non ci riesci invece a Torino sì, assolutamente, copri le spese nei mesi più bassi e guadagni molto di più nei mesi più alti quindi sì, effettivamente è meglio ottimo, e quando hai preso B&B Academy e poi sei entrato in Rental Pro quindi in generale che obiettivi ti eri prefissato? io quando sono entrato in B&B Academy ho detto devo, io prima di entrare in B&B Academy mi sono promesso devo fare una vita diversa dai miei genitori, che poverini, tutta la vita mio padre soprattutto ha lavorato per mantenerci e arrivavamo sempre tiratissimi, ok? A volte io addirittura ho dovuto passare dei Natali dove non mi compravano sostanzialmente quasi niente non dico che mi sia mancato qualcosa, dico che mio padre pur di farci vivere una vita serena, ok? si è logorato dentro, ok? ora sta molto meglio e tutto quanto, ok? Però non voglio vivere questo, cioè io non voglio sopravvivere Ludo quando fai il dipendente sopravvivi, non è vita, è sopravvivenza, ok? e io sono circondato da persone che hanno questa situazione non volevo questo e soprattutto volevo più tempo per i miei figli ho cercato una soluzione, ho provato diverse cose, anche il network marketing che all'inizio sembra tutto bello e poi non funziona bene diciamo che parti bene perché hai i tuoi conoscenti ma finiti i tuoi conoscenti sei finito però ripeto, pensiero mio, non dico che sia così, dico che io l'ho vissuta così niente, volevo avere libertà e non solo finanziare ma anche di tempo che è la cosa più importante ho fatto il corso di B&B Academy e da lì ho cominciato a man mano a cercare immobili come ti dicevo per otto mesi non ho trovato niente perché mi limitavo io e poi sono entrato in Rental Pro espandendo anche la mia mente, espandendo il discorso affitti brevi non dandomi più dei limiti, ok? ma dicendo qualsiasi problema mi esce troverò una soluzione e da lì è esploso tutto io a maggio ho acquisito il primo immobile, a maggio i primi due che sono i due in sub-affitto tempo di avviarli tutto sono arrivato a luglio quindi mi sono perso metà della stagione bella e poi da lì è esploso tutto perché ad agosto ho acquisito l'immobile sempre in sub-affitto con l'affiliatore Rental Pro Claudio e poi da settembre non lo so cosa è successo ma ho detto va bene dai riprendiamo a cercare ho dovuto smettere di acquisire cioè smettere di cercare acquisizioni perché mi sono arrivate a caduta ma ti dirò soprattutto grazie a Rental Pro in un determinato modo perché allora la formazione B&B Academy mi ha insegnato come approcciarmi Rental Pro mi ha dato modo di acquisire ma non tanto dai lead che arrivavano che comunque ho acquisito anche da quello posso dire ma dalle collaborazioni che ho fatto all'interno io ho fatto 3-4 collaborazioni molto molto valide che mi hanno portato ad acquisire un sacco di immobili e nel frattempo le immobili che ho acquisito i proprietari che ho conosciuto hanno parlato di me ad altri proprietari che hanno parlato ad altri proprietari ogni tanto mi arrivano telefonati ciao guarda sono amico di questo ho questi immobili ti può interessare che non devo neanche più star lì a trattare capito mi li buttano ancora un po' è assurdo io l'anno scorso un anno e mezzo fa era per me era impossibile cioè io pregavo di trovare un appartamento in pieno centro storico a Torino adesso ne ho due cioè e non ho quindi meno di un anno 22 case perché è iniziato a maggio siamo ancora ad aprile sì sì io effettivamente su Airbnb se vai vedere su Airbnb è la prova io sono entrato in gioco a giugno del 2023 quindi meno di un anno fa col primo immobile adesso vai a vedere ne ho 21 oggi 29 aprile oggi aspetta fra un mese poi ne avrò un po' di più ah già oggi ne devo fare uno finita questa intervista devo fare un annuncio ad armaditaggia acquisizione semplicissima proprietaria già conosciuta guardo quest'altro lì appartamento mi si è liberato lo vuoi? fammi vedere tu puoi fare tot? sì mi piace boh a posto percentuale concordate contratto firmato via partiamo così è stato e due secondi ciò messo e quello è bello e ad oggi guadagni più di quando facevi il dipendente o il pizzaiolo? un pelino in più sì sì assolutamente sono pieno di debiti perché la pizziera è andata malissimo il guadagno che faccio me lo mangio nel pagare i debiti ma arriverò fra qualche mese che non ne avrò più e questa è la cosa bella quindi sì cioè prima avevo i debiti e non sapevo come uscirne ora ce li ho ancora perché sono pochi cioè comunque ripeto tutto quello che mi è capitato è successo in inverno la maggior parte degli appartamenti che ho sono estivi ma io ho già le stime di quello che andrò a guadagnare questa estate e io ti dico solo a luglio sono al 48 per cento di occupazione sono a 30 mila euro di commissioni io con quelli ho finito di pagare i miei debiti poi da lì in poi quindi l'affitto breve paga i debiti diciamo delle attività precedenti sì 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 potenzialmente sì sì ho dei finanziamentini la macchina che ho comprato è quello che vuoi ma debiti arretrati o cose che dici cazzo se non riesco a pagare no non c'ho più niente di questa roba qua intanto hai comprato una macchina nuova ricordo bene? sì no ne ho comprate due in realtà due macchine nuove sì sì una ibrida e una gpl quella per fare i viaggi che sono ancora nella mentalità del aspetta non voglio spingermi troppo non voglio comprare più di quel che posso permettermi che in realtà non l'ho comprata non le hai prese immagino grazie anche ai guadagni dell'affitto breve no le ho prese grazie solo ai guadagni dell'affitto breve perché le ho prese un mese no due mesi fa una l'ho fatta con finanziamento acquistata l'altra l'ha affittata sfruttando sai lo scarico a spese aziendali così lo scarico al 100% ed è quindi è come se non l'avessi manco comprata perché la scarico dalle tasse quindi certo il gioco è quello da fare siamo a fine aprile hai già detto che hai dei tassi di occupazione importanti anche già per il periodo estivo all'incirca qualche numero se vuoi darci qualche dato perché c'è tanta gente che dice ho paura magari appunto le case le prendo adesso ma sono case stagionali no? si possono prendere anche a marzo aprile soprattutto in PM che non c'è investimento insomma altro no no adesso è il momento giusto di acquisire in realtà perché hai il tempo di avviare e poi a ricevere le prenotazioni in più hai anche modo di avere un prezzo più alto rispetto agli altri perché io personalmente non ho ancora tutti i calendari pieni ma semplicemente per scelta mia perché? perché io non voglio il calendario pieno adesso di tutta l'estate quando posso marginare tantissimo quindi io aspetto sono lì pronto sto vedendo da un mese all'altro calcola in un mese è aumentato il prezzo medio di mercato io ti parlo di Alassio perché ho riferimento adesso a quello in mente di 40 euro a notte sai cosa vuol dire 40 euro a notte? vuol dire che io il mese scorso magari vendevo a 100 euro a notte e facevo 3000 euro in un mese adesso se stando dietro al prezzo medio di mercato che è salito di 40 euro in un mese se io riempissi questo mese piuttosto che avessi riempito il mese scorso guadagno 1200 euro in più è quello eh quindi ti dico io al momento l'occupazione non ce l'ho piena da nessuna parte ok? te lo dico chiaro vabbè no Alassio si ho riempito quasi tutto luglio come ti dicevo e agosto ma non ce l'ho piena dal dire ho 30 giorni su 30 ma per scelta mia perché voglio avere più margine possibile quindi ci sto dietro settimanalmente e facendo così e nonostante ciò dicevi hai più di 30 mila euro di provvigioni si a luglio luglio è il mese diciamo che per ora è quello che ho più ti dico quello perché per ora è quello che ho la diciamo la percentuale di occupazione maggiore e sono a quella cifra lì a luglio però calcola che io a luglio non ne ho più 21 ne avrò 38 e da qui a luglio magari se ne aggiunga qualcun altro perché non si sa mai però se ad oggi ne ho 21 online e faccio quella cifra immagina fra un mese che ne ho un mese o due che ne ho 38 che ti tiro fuori roba che io mai mi sarei aspettato nella mia vita di fare sinceramente ottimo e quando pubblichi una proprietà dopo quanto tempo di norma ricevi una prenotazione? allora diciamo che dipende tanto da soprattutto dal portale perché a volte sai che la pubblichi te la mette subito online e ti arrivano a volte ci mette 24 48 ore comunque la media di 24 48 ore le prime prenotazioni anche se booking ok hai rispetto ad Airbnb ti mette subito online cioè tu fai l'annuncio e ti metto online io l'ho fatto la mattina appartamento in via Po a Torino l'ho fatto la mattina alle 9 iniziato alle 10 e mezzo finito ho detto ok aspetta c'è un attimo un casino di robe da fare alle 2 riprendo e finisco perché l'ho messo online ho messo un prezzo a caso di 300 euro a notte con lo sconto sai del 20% che c'è all'inizio e l'ho lasciato lì ho detto tanto figurati ho messo il prezzo che è il triplo rispetto alla media di mercato figurati se qualcuno mi prenota arrivo alle 2 riapro l'annuncio ancora neanche l'avevo collegato accennemente avevo 3 prenotazioni ma che cavolo ma non si può va bene perché va bene non me l'aspettavo però sì a volte ti arrivano anche lo stesso giorno in cui lo metti online assolutamente fantastico e hai detto che collabori con delle persone le hai trovate immagino forse l'hai anche detto prima attraverso B&B Academy e Rental Pro e nonostante ciò avete automatizzato quello che è il check in il check out magari tu hai automatizzato l'invio delle schedine alla polizia insomma siete riusciti ad automatizzare qualcosa proprio per poi guadagnare non solo di più ma anche un po' più di tempo libero? io ho automatizzato tutto non ne ho uno ad oggi che debba fare un check in fisico ok e l'ho automatizzato in una maniera talmente maniacale che io ho diciamo le vendite delle notti aperte fino alle 9 di sera del giorno stesso quindi tu potenzialmente vuoi venire al mio alloggio alle 8 e mezza guardi e ancora libero per poter prenotare la sera stessa mi è capitato un sacco di volte alle 8 8 e mezza un quarto alle 9 di ricevere prenotazioni di gente che ti entra nello stesso identico momento quindi ti ho prenotato alle 8 e mezza alle 9 davanti casa pronto ad entrare ok? ecco l'ho automatizzata talmente bene con collaboratori e tutto che potenzialmente mi arriva la prenotazione io l'altra volta ero a cena dai miei genitori stava mangiando la pizza mi è arrivata la prenotazione e ho detto oh guarda questo mi deve entrare adesso voglio entrare alle 21 fai quello che vuoi entraci pure in sostanza ha ricevuto tutte le indicazioni ha registrato i documenti ha ricevuto le indicazioni ed è entrato alle 9 e 9 e 10 è entrato nell'alloggio io non ho scritto niente primo perché avevo programmato tutto perfettamente per far sì che facesse tutto da solo il software manager che utilizzo e gli documenti li ha registrati perché se non li registrava io non gli mando le indicazioni per esperienza passata ho incominciato a fare così e mi trovo da dio quindi mi ha registrato i documenti gli sono arrivate le indicazioni con tutti i vari video messaggi tutto quello che gli serve sapere per entrare è entrato in completa autonomia e io non ho dovuto neanche scriverli quindi c'è chi ha automatizzato tutti i collaboratori con cui collabori sono per lo più per l'emergenza immagino sì 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 anzi alcuni mi dicono Padri posso fare qualcosa non so cosa fare e gli dico se vuoi guarda prendi in gestione anche questa cosa qua visto che vuoi fare qualcosa in più però sì potenzialmente come da come mi sono organizzato io ci ho messo mesi perché mi sono creato tutto un mio anche un mio metodo seguendo quello che mi hai spiegato comunque io poi ho imparato un mio metodo personale automatizzo talmente bene che anche gli ospiti gli succede qualcosa non mi scrivono cioè gli salta la corrente in casa non sanno come usare la tele non sanno come usare un fornello magari induzione non hanno l'acqua calda in casa cosa che è la maggior parte delle volte quello che può succedere diciamo di più grave io preparo tutta una serie di video che do agli ospiti per fare in modo che non mi scrivano neanche vanno a vedere nelle indicazioni che hanno ricevuto il giorno prima di arrivo guarda come riattivare la corrente cliccano vedono un piccolo video e si vanno a riattaccare la corrente da soli quindi non mi scrivono praticamente mai a meno che ci siano particolari richieste tipo come posso aprire la lavastoviglie c'è una leva aprila mi è successo mi è successo uno che mi chiedesse come posso aprire la lavastoviglie e ti tiro giù il portellone basta e boh ottimo le ultime domande che volevo farti dopo aver visto insomma la tua esperienza con il business con gli ospiti con i portali con le prenotazioni sono relative al corso e sono innanzitutto in linea generica se consigli il corso e perché allora sì consiglio il corso perché ti impronta a un lavoro che potenzialmente da solo non potresti mai imparare cioè potresti sì ma ci metteresti anni diciamo che ti fa fare un salto nel tempo molto molto alto molto lungo nel senso che ti taglia tutta una serie di cose che impari nel tempo che grazie al corso le impari molto più in fretta quindi ti impronta questo lavoro quindi sì lo consiglio assolutamente l'unica cosa come dicevo per esperienza personale non perché tu l'hai spiegato meglio o peggio ma semplicemente io quello che consiglio è partire in PM perché per esperienza personale essendo partito in sub con poca esperienza sul campo mi sono ritrovato a dover gestire diverse difficoltà che non pensavo e invece col PM è molto più leggero perché ok liscio come l'olio sì fai degli sbagli ti puoi ecco puoi permettere di sbagliarti ti puoi permettere di sbagliare ok e quindi è molto c'è è una figata il PM non pensavo se mi avessi fatto un'intervista qualche mese qualche anno l'anno scorso diciamo ti avrei detto ah sub tutta la vita invece no mi sono ricreduto da solo e è riscettico all'inizio prima di partire io stesso vedo un sacco di pubblicità in giro di corsi e dico ma chi è che riesce a dare soldi a uno del genere io spero la gente non pensa lo stesso di me però se sei qui è perché hai ottenuto dei risultati in maniera totalmente onesta prima di entrare in Bambi Academy eri scettico se sì cosa ti spaventava? allora in realtà io con te sono andato all in nel senso che gli unici soldi che avevo per poterlo fare questo lavoro li ho usati per comprare il corso ok non ero scettico ero spaventato dal fare un investimento sbagliato l'ennesimo perché comunque ripeto ho preso questa pizzeria che comunque non è che mi abbia fatto dice ah ci ho guadagnato un sacco anzi ma mi ha affossato ok nella verità quindi che cosa ho fatto Ludo? io sono andato a vedere tutti i tuoi video di YouTube io ricordo il video che il primo video che ho visto che tu eri a Parigi e hai fatto quel video sulla panchina che raccontavi del perché hai iniziato a fare il corso che dei tuoi amici ti hanno chiesto di insegnarglielo gliel'hai insegnato e poi non si sono applicati e hai perso tempo e lì ti è venuta l'idea di fare il corso per chi volesse imparare questo mestiere ok quello è stato uno dei tanti ho visto tutte le video interviste tutti i video che hai fatto cioè tutti i video che avevi fatto prima di comprare il corso ok quindi ti ho seguito tantissimo per capire se effettivamente stessi per fare una scelta giusta o no e poi alla fine ho detto basta sì lo voglio fare perché sì non penso di arrivare ai livelli di lui che c'ha la villa, la Ferrari, queste cose qua non penso ma al contempo penso di potermi liberare dal tempo che è quello che era il mio obiettivo liberarmi dal dire cazzo non posso andare da nessuna parte perché non andare a lavorare se io oggi alle 4 devo andare a prendere il mio bambino mi sono detto io lavoro fino alle 4 alle 4 devo prendere il mio bambino sto con lui vaffanculo basta non ne voglio più sapere e oggi posso farlo cosa che prima assolutamente no e io ricordo i primi anni del mio bambino andavo a lavorare e il mio bambino attaccato alla porta e tirava i pugni sulla porta io gli dicevo devo andare cazzo devo farci ci devo andare e dovevo andare col magone ma ci andavo adesso no e quindi sì non ero scettico ma ero spaventato da fare un brutto investimento ma in realtà sì ci sono persone che devi starci attento è vero però poi comunque se vai a vedere lo storico tu fai bene a tenere comunque il canale YouTube con tutti i video come quello che stiamo facendo oggi e tutto perché serve veramente alle persone a dire ok sto facendo la sto per fare la scelta giusta oppure no e quello è a me ha convinto quello nel senso seguirti cioè guardare tutti i vecchi video uno dietro l'altro come fosse un film mi ha aiutato tantissimo quindi sì è stato quello la principale decisione che ho preso cioè la cosa che mi ha portato a scegliere tanto mia moglie ha portato il caffè fai benissimo e a livello di community ti ha aiutato il fatto di essere parte della community più grande d'Europa migliaia di persone in qualsiasi regione d'Italia Svizzera estero ovunque sì tutta la vita nel senso che ora diciamo che ora un po' meno perché comunque mi sono creato la mia il mio giro di conoscenze collaboratore in vari posti però ce l'ho grazie a quello nel senso che se fai un corso finisci il corso e non hai nient'altro è più dura invece avendo una community che tu comunque se hai bisogno diciamo che ti da una mano in un certo modo però sì ti da una mano comunque cioè ti puoi confrontare con qualcuno io nella community ho conosciuto Lorenzo Lorenzo che era l'amministratore del gruppo Piemonte e ci ho fatto amicizia cazzo è mio amico è diventato mio amico è una persona che mai mai avrei potuto conoscere nella vita normale ho fatto il corso l'ho fatto il corso e ci siamo conosciuti e abbiamo preso un appartamento anche insieme alla fine cosa che senza la community non avrei mai potuto fare poi anche il discorso degli aperitivi queste cose qua io ad oggi vabbè non ho potuto semplicemente perché con i miei bambini mi viene un po' difficile muovermi al momento perché sono tanto piccoli e hanno tanto bisogno di me però ripeto chi li fa comunque può comunque confrontarsi con le persone con chi ha avuto cioè anche i problemi c'è un problema cavolo non so risolvere chiedo a qualcuno che a cui è già successo cosa ha fatto e mi ha aiutato in certi momenti perché ho chiesto dei consigli mi sono stati dati e mi hanno aiutato a risolvere determinati problemi quindi si è comunque anche molto valida la community perché ti può aiutare veramente e non solo nella risoluzione dei problemi ma anche ripeto nelle acquisizioni ragazzi ho trovato questo mi è successo ho trovato un appartamento in abruzzo io non ci andrò mai perché sono otto ore di macchina c'è qualcuno in abruzzo che vorrebbe collaborare con me? mi hanno scritto in tre o quattro subito ho preso collaborazione il giorno dopo era a fare la Ludovica e Angelica sono andate a fare il sopralluogo nell'immobile e poi l'abbiamo acquisito e io non mi sono mosso di casa quindi no no è anche un punto di forza in più oltre al corso assolutamente Ottimo ultimissime due domande sono secondo te quanto vale cioè sono due inizio a fartene una ed è la prima quanto vale B&B Academy in virtù di quello che ti ha permesso di raggiungere e ti sta permettendo di raggiungere perché c'è tanta gente che scettica magari diciamo sa investire questa cifra per B&B Academy in realtà secondo me se uno lo prende seriamente moltiplica quel valore all'infinito però lo chiedo a te che effettivamente hai speso i tuoi soldi allora B&B Academy vale comunque il denaro che ho speso ok per prenderlo però sai cos'è Ludo come dici tu cioè tu non devi solo comprare un corso non puoi permetterti di dire compro il corso il corso mi fa avere quello che voglio no è una questione totalmente di testa cioè io all'inizio ho fatto fatica ripeto perché mi ponevo dei limiti i limiti non si devono imporre mai se ti imponi dei limiti ti fotti da solo e quindi tanta gente magari compra i corsi e poi si lamenta che il corso non gli ha cambiato la vita che è un corso delle palle perché non non ha funzionato ma non è che non ha funzionato perché il corso non ha funzionato non ha funzionato perché tu non ti sei messo d'impegno nel farlo funzionare perché tu mi hai insegnato le basi poi stava a me decidere di applicarle di impegnarmi di farmi il mazzo come ho fatto oppure di dire dopo uno due tre mesi di zero risultati dire no vabbè non funziona è una cazzata non è una cazzata cioè veramente funziona è solo che ti devi mettere tu di testa tua a dire ok ho comprato questo corso ma se lo compro lo compro perché lo voglio fare perché voglio veramente avere dei risultati devi partire con quel concetto lì se no lascia perdere non comprare niente perché butti via solo dei soldi e c'è un sacco di gente lo sai benissimo che ha comprato il tuo corso e poi è sparita problemi loro perché alla fine se ti impegni davvero anche quando dicono il mercato di Airbnb è saturo parliamone il mercato di Airbnb è saturo di gente che non sa lavorare se sai lavorare bene se impari un metodo non è saturo per niente perché adesso comunque io ho appartamenti in mezzo a una miriade di appartamenti ma ce li ho pieni perché? perché io so come lavorare so come presentare un appartamento e tutto questo grazie a comunque il corso che ho fatto l'esperienza che poi vai a ottenere se ti applichi perché alla fine non basta fare un corso e diventare il genio della lampada devi applicarlo cazzo se no non ha senso io l'ho applicato nel tempo ho imparato sempre più cose e adesso ne so una più del diavolo e parliamo di meno di un anno di lavoro io non mi immagino cosa succederà fra un anno o due io voglio avere saremo qui a testimoniarlo con un'altra testimonianza ah si vedrai vedrai no no e infine l'ultima domanda è se avresti ottenuto lo stesso senza Airbnb Academy ma io non conoscevo neanche questo mondo io senza comunque tutto quello che ho visto dal canale YouTube dalle sponsorizzate che facevi non avrei mai neanche conosciuto questo mondo quindi no no io nel mercato immobiliare non sapevo neanche che cosa fosse fino a tre anni fa non me la sarei mai aspettato di entrare in questo mondo quindi no assolutamente non avrei mai avuto nulla di tutto ciò senza avere questo corso questo è poco ma sicuro fantastico grazie mille per i curiosi possiamo lasciare il tuo link qua in basso da host certo magari prenotano anche qualche struttura sparsa per l'Italia non sarebbe male per me non c'è problema basta che non mi chiedano sconti perché lo sai il PM non decide gli prezzi ma le decide il mercato quindi no no comunque si molto volentieri anzi ottimo benissimo allora grazie mille Patrick per questa super testimonianza sono sicuro che poi ci riaggiorneremo più avanti per vedere come è andata la stagione e quante nuove proprietà hai acquisito ok grazie a te e ragazzi impegnatevi non compratelo soltanto se lo dovete comprare dovete farlo con l'intento di applicarlo questo è quanto ok poi i risultati arrivano mica ti sono arrivati sì altro che ottimo bene grazie mille Patrick grazie anche a voi per averci seguito se volete maggiori informazioni su B&B Academy trovate una serie di contenuti gratuiti e la possibilità di prenotare una consulenza con il nostro team tutto qua in descrizione e iscrivetevi al canale ciao 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 ciao